Ma sono stati davvero sulla Luna? Un ex dipendente di un'industria spaziale licenziato per inaffidabilità sfogò il suo odio per il mondo che l'aveva escluso in un libro inventando la teoria del falso allunaggio. Ammette di non aver visto neanche una missione Apollo, ma diffonde comunque la storia del complotto della NASA. Due le considerazioni per gli scettici. Il programma Apollo coinvolse 500.000 persone. Nessuno si accorse di lavorare ad un falso? Ma soprattutto i sovietici spiavano ogni passo degli americani, sulla Terra e sulla Luna. Sarebbero stati i primi a denunciare l'imbroglio. Ma la teoria del complotto vola ancora in internet e non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Non capisco perché si continui a dire che non ci siamo andati sulla Luna. C'è una sola spiegazione, l'ignoranza. D'altronde c'è gente che pensa ancora adesso che la Terra sia piatta. Credimi, io l'ho vista, non è piatta. Effettivamente però l'impresa era al limite dell'impossibile. Allora la NASA aveva computer meno potenti di quello che sta in un cellulare di oggi. Eppure 24 americani arrivarono in orbita lassù e 12 uomini camminarono sulla Luna. Non lo fecero certo per i soldi. La diaria di ogni missione, con probabilità altissime di lasciarci la pelle, era di 8 dollari al giorno. Il programma Apollo venne fermato nel 1972. Era costato 24 miliardi di dollari di allora, pari a 100 miliardi di oggi, un decimo della guerra in Iraq.